Sesta relazione sullo stato delle Alpi, quali sono le novità, quali tratti salienti e perché è importante? Questa relazione sullo stato delle Alpi, come ha detto lei la sesta appunto, è frutto del lavoro intenso di due anni di esperti provenienti da tutti i paesi alpini. Il tema della green economy o dell'economia verde è un tema molto importante per le Alpi perché appunto in questo territorio abbiamo da una parte una grande presenza di capitale naturale, che alla fine è il nostro capitale principale, ma dall'altra abbiamo la necessità di utilizzare questo capitale preservandolo allo stesso tempo e quindi dedicare una relazione sullo stato delle Alpi e le green economy ci sembrava più che doveroso, soprattutto in un periodo in cui ad esempio con gli accordi di Parigi è stata sempre di più ribadita la necessità di attuare una politica economica che prenda in considerazione anche allo stesso tempo la riduzione delle emissioni di carbonio. Il rapporto tratta quindi l'economia verde nei tre aspetti principali, l'aspetto economico, l'aspetto ambientale e l'aspetto sociale. Speriamo che questo rapporto possa servire da contributo a sviluppare un nuovo modello economico nelle Alpi a creare nuovi lavori, lavori del futuro. Ecco, proprio a proposito di concretezza, quali potrebbero essere i prossimi passi da attuare sui territori? La Convenzione delle Alpi, noi siamo un trattato internazionale, quindi lavoriamo a un livello generale. Quello che i territori devono fare ora è mettere in atto da una parte politiche, ma dall'altra parte anche incentivi, ad esempio rispetto all'educazione, nel senso che non possiamo immaginare un nuovo modello economico se non lo accompagniamo con iniziative volte ad educare i giovani, ad esempio nella trasformazione di un modello di agricoltura verde.